Oh giovani amici di Facebook, torniamo a parlare di accessori da viaggio visto il successo della scorsa puntata facciamo una nuova puntata dedicata appunto a accessori un po' particolari, un po' strani ma altrettanto utili da portarsi in viaggio ve ne presento quattro nuovi e vi ricordo anche di andarvi a vedere la puntata precedente se non l'avete ancora vista la trovate linkata ovviamente in descrizione e se siete su youtube comparirà un link tipo ora partiamo con il primo che è una roba veramente super semplice sono tutte e quattro robe veramente super economiche questa volta come al solito in realtà questo in particolare è un semplicissimo portacavi che però li tiene organizzati molto bene e può essere veramente comodo da tenere sia in viaggio ma in generale questa è una roba che uso io anche dentro lo zaino normalmente per tenere organizzati i cavi vi faccio vedere com'è con i cavi dentro ecco qui come vedete ci stanno svariati i cavi uno per ogni scompartimento o anche più di uno chiaramente senza problemi poi la comodità è che si può semplicemente avvolgere in questa maniera qua diventa un salsicciotto che occupa molto poco spazio ed è facilmente richiudibile con il suo laccetto ecco che in questa maniera con un aggeggio da quanto costa? 10 euro questo qui di Butterfox si possono tranquillamente riporre ordinatamente i propri cavi di diverso genere dentro allo zaino, alla borsa, al trolley insomma dove vi pare costa poco, è molto comodo, 10 euro ve lo consiglio di Butterfox altra cosa che può risultare molto comoda per l'organizzazione sono questi cubi organizzatori di Amazon Basics ora vi faccio vedere gli spacchietti, ci sono di diverse dimensioni io ne ho presi di particolari arrivano belli compressi dentro allo scatolino di cartone come avete visto in questo caso vi ripeto esistono di diverse dimensioni io ho preso questo formato che secondo me è molto comodo e ne ho presi 4 uguali è proprio un kit che arriva così sono rossi, sono anche qui di diversi colori la cosa comoda di questo formato è che è veramente molto modulare dentro ai trolley ha la lunghezza che è praticamente larga quanto un trolley da cabina standard e poi dopo possono essere messi appunto modularmente uno di fianco all'altro in questa maniera ma sono un parallelepipedo molto comodo con questa rete per cui si riesce a vedere attraverso e quindi capire appunto cosa si è messo all'interno sono perfetti per esempio per l'intimo cioè ci stanno svariati slip o calzini sono perfetti per le scarpe o per le ciabatte cose classiche che si mettono in borsa come vedete si richiudono facilmente con la loro cerniera e hanno anche addirittura una maniglia per essere trasportati in giro sono venduti vi ripeto in set da ben 4 che vanno fondamentalmente a riempire un intero trolley da cabina ve ne potete portare anche meno chiaramente dietro in questo caso questo set costa 24 euro secondo me è consigliato non sono troppi soldi sono fatti abbastanza bene mi sembra sono in nylon credo comunque un tessuto plastico di qualche tipo alla fine non è che devono resistere a chissà quali sforzi stanno dentro allo zaino per esempio ma soprattutto ripeto sono fatti per i trolley e per organizzare quindi meglio il contenuto dei trolley consigliati amazon basics 24 euro cubi organizzatori terza cosa particolare che vi consiglio oggi è questa costa veramente praticamente niente è di plastica anche sempre di pelle costa 5 euro mi sembra va veramente aggiunta al carrello mentre comprate altro è semplicemente un porta passaporto che viene fatto di un porta passaporto? beh chiaramente la prima questione è che non si rovina il passaporto insomma non è neanche questo la cosa più comoda in assoluto però di avere un porta passaporto come questo sono due in realtà il vantaggio uno è questa c'è una taschina classica nella parte sul retro in cui è possibile infilare per esempio il proprio documento di viaggio l'altra cosa secondo me è comodissima è questa qua cioè c'è una specie di segnalibro trasparente vedete che può essere utilizzato per fermare la pagina in cui avete la vostra bella foto eccomi qua perché questo? perché il passaporto va aperto in aeroporto direttamente sulla pagina della foto come questa e se avete un porta passaporto questo è addirittura anche l'elastico per cui si può richiudere e non lasciarlo svolazzante se avete come dicevo un semplicissimo porta passaporto come questo riuscite ad aprirlo velocemente tac direttamente già sulla pagina giusta è una sciocchezza ovviamente niente di che però visto che c'ero mi sono preso anche sta cosa qua secondo me è molto comoda costa veramente 5 euro c'è in diversi colori ho preso il giallo ma c'è azzurro c'è rosso c'è verde mi sembra c'è in diversi colori anche molto belli secondo me questo qui è carino costa poco finta pelle chiaramente però 5 euro da comprare ultima cosa nel video di oggi è questo NAT è in pratica la stessa roba che c'era insieme diciamo in bundle con il trolley di P-Quadro che vi ho fatto vedere in uno degli ultimi video in quel caso si chiamava con NECU ed era fatto appunto marchiato da P-Quadro in questo caso si chiama semplicemente NAT è un tag bluetooth che serve per non perdere cose in generale è studiato chiaramente soprattutto per i bagagli ma in realtà è utilizzabile con qualunque roba come funziona? semplicemente si attacca questo piccolo tag a una qualunque cosa fondamentalmente può essere una valigia ma possono essere anche le vostre chiavi di casa le chiavi dell'auto qualunque roba e questo tag bluetooth è associato al vostro smartphone se il tag si allontana più di tot metri dal vostro smartphone quindi in teoria da voi farà scattare un allarme sullo smartphone questo serve per due usi principali cioè quando ci stiamo scordando l'oggetto qui attaccato il NAT da qualche parte o quando ce lo stanno portando via rubando appunto vediamo dentro la confezione anche sisteticamente è veramente molto simile al connect tra l'altro ringrazio mi hanno segnalato in molti questa roba nel video di P-Quadro per cui sono andato subito a comprarmelo e volevo verificare che funzionasse più o meno uguale lo vediamo subito la prima volta che lo apro anch'io vi viene data insieme la batteria nel caso di P-Quadro durava sui sei mesi immagino anche in questo caso sono praticamente lo stesso hardware c'è anche un laccetto che può essere comodo per attaccarlo alle chiavi o simile un biadesivo 3M stesso discorso per attaccarlo da qualche parte e poi il tag vero e proprio che ha un tasto che serve immagino io per il pairing con il telefono e delle istruzioni con un bel preambolo in cinese e allora vediamo se c'è anche un inglese c'è allora l'app l'ho già scaricata prima eccola qua la posso aprire si chiama NAT semplicemente consenti bla 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 sono le solite cose ha delle funzionalità in più secondo me interessanti però rispetto al connecco di P-Quadro ha due funzionalità in più direi carine però questo NAT che sono Silent Region e Silent Period Silent Region vi consente fondamentalmente di impostare una zona in cui comunque l'allarme non scatta mai per esempio casa vostra o il vostro ufficio e Silent Period semplicemente invece un periodo in cui l'allarme non scatta mai cioè si mette in Sleep Mode fondamentalmente il NAT se lo usate per le valigie lo potete lasciare in Sleep per tutto il periodo in cui non viaggiate per esempio allora Start ecco questa roba mi rompe molto le balle bisogna registrarsi addirittura con il numero di cellulare facciamo sta cosa solo per voi ragazzi è una cosa insopportabile ok mi sono registrato vi mando addirittura un codice via cellulare l'unico modo di registrarsi e lasciare il numero di cellulare è una cosa insopportabile davvero è uno dei punti più negativi di questo NAT adesso io l'ho fatto per farvi vedere come funziona ma trovo veramente insopportabile il dover dare il proprio numero di cellulare personale ok comunque facciamo bind per cui dovremmo associare questo NAT non c'è ancora messo la batteria in realtà per cui andiamo ad aprirlo vediamo come è fatto dentro c'è già una batteria dentro quindi non capisco bene perché me ne viene dato un'altra comunque ok allora a questo punto vi dico che è fornito con due batterie oppure ci sono sbagliati non l'ho capita questa comunque fatto sta che una batteria c'era già dentro lo vado a richiudere ok poi tengo premuto il tasto e dovrebbe riconoscerlo infatti l'ha riconosciuto subito lampeggia rosso il tag e sul cellulare compare un NAT connecting to NAT eccoci qua ci sono due funzionalità il find it e l'anti lost l'anti lost è quello che vi ho detto il find it è invece la ricerca magari dentro casa se siete sicuri di aver perso le chiavi o qualunque altra roba qui collegata dentro casa appunto avendo una portata di un centinaio di metri può essere comodo l'anti lost come vedete qui si può cambiare l'immagine come era poi su connect to con NECQ si può fare bipare se funziona esatto funziona sta bipando e tracker is near to you mi dice per cui appunto si accorge che è vicino a me insomma le funzionalità avete capito sono praticamente le stesse di quelle che vi ho già fatto vedere con il con NECQ la cosa figa è che questo NAT costa veramente un cazzo costa 12 euro e quindi è associabile a qualunque roba c'è in vari colori io l'ho preso ovviamente arancione ma c'è anche bianco c'è anche blu insomma ci sono di diversi colori direi che è abbastanza consigliato ripeto non sopporto questa roba di doversi registrare con il proprio numero di cellulare comunque in generale è consigliato si chiama NAT serve a non perdere cose ed è un tag bluetooth da 12 euro questo è tutto questi sono i 4 accessori che vi ho consigliato oggi recap veloce cubi organizzatori di Amazon Basics per organizzare cose dentro al proprio trolley valigia o similari butterfly un portacavi che si arrotola molto comodo e che tiene diversi cavi alla volta e può essere poi messo dentro al proprio trolley o al proprio zaino e poi il porta passaporto che vi ho fatto vedere è davvero molto comodo perché ha un segnalibro interno che vi consente di aprire sempre il passaporto sulla pagina giusta che è quella che vogliono vedere in dogana o ai controlli di sicurezza 5 euro comodissimo e per finire il NAT di cui abbiamo appena parlato questo tag bluetooth che vi consente di o ritrovare cose nel raggio di un centinaio di metri ma soprattutto di non perdere perché vi avverte quando si stanno allontanando troppo da voi perché ve le stanno rubando o perché ve le siete scordate da qualche parte tramite il cellulare se vi piacciono i miei video di incaut unboxing e in generale gli speciali dedicati ai accessori di viaggio fate like fate share lasciatemi nei commenti altre indicazioni magari di altri accessori che volete vedere o consigli vari ci vediamo al prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti grazie a tutti